le feste come sono andate a lei guardi come sempre una noia per ripetitivo però per la befana c'è stata una gran bella novità abbiamo passato una befana bene cioè perché da noi si usa a noi dove a bagna cavallo proprio nel centro c'è un piazzale c'è il campanile 40 metri di campanile e davanti c'è la torre dell'orologio è usanza che la befana appaia da in cima al campanile con una c'è un filo di acciaio una fune si corre giù attraverso il carrucco è bellissimo e la tradizione io non sono d'accordo che lo fa sempre un uomo vestito da donna ma l'ho cambiato a lei non piace l'uomo vestito da donna a me la cosa mi sembra un po' la disturba vabbè ma l'ho cambiato tutto l'anno tutti gli anni cambiate l'uomo tutti gli anni cambiamo l'uomo allora c'è la valbrana la valbrana è questa mia amica pensavo fosse una valle un luogo un nome proprio romagnolo la valbrana ha detto quest'anno lo fa il mio marito Adelmo ecco e come è andata tutti contenti lui ha detto no no ma sei stato in aviazione nel 59 59 no ma lui ha detto io ero il piantone però tutti l'hanno preso e lei ha comandato prendetelo e portatelo in cima gli hanno messo la palandrana l'hanno spinto su tutta la gente applaudì c'erano 50 60 mila persone 100 mila ma facciamo 50 sono voci sono voci è andata su è andato su in alto tutti applaudivano lui diceva no no lo spingeva l'hanno imbragato l'hanno imbragato se non voleva con la carrucola l'hanno portato su la banda ha fatto con tutti i regali perché lui quando scendeva buttati i primi dieci metri ha fatto tru 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 poi non so chi è stato uno stupido purtroppo ha detto viva la befana e allora quelli che sceglieva la corda hanno molato tutto e lui è partito come un missile è andato giù diciamo si è infastato con la porta della torre campanale della torre dell'orologio allora ha fatto come stai presente quando un piccione va con il parabresto dell'autostrada di un pullman tutte le penne sono partite però il bello che i regali sono esplosi a tutti i bambini allora lei ha fatto evviva è rimasta la scopa conficcata nella porta della torre dell'orologio come escalibur la spada della roccia e vengono da hanno già iniziati pullman dei turisti a venire dopo hanno detto ma valbrana com'è andata benissimo l'epifania tutte le feste porta via e porta via anche a delmo veramente le ho detto che lo cambiano tutti gli ansi e e e Grazie.